siamo online allora aspettiamo che si connettono eccoci qua ben ritrovati, ciao a tutti allora benvenuti a tutti in questa lezione come già detto non so chi sei ciao ciao Pietro e Anonymous quindi benvenuti a tutti a questa nuova lezione online di musica aspettiamo un attimo che si connettono tutti così riusciamo a fare una diretta diciamo sensata dall'inizio alla fine queste lezioni per chi non lo sapesse sono delle lezioni che io faccio gratuitamente per cercare di aiutare gli studenti e chi deve studiare questi argomenti soprattutto per la scuola per per cercare di appunto aiutarvi dal punto di vista didattico visto che comunque in questo momento la situazione didattica è molto complessa ed è molto difficile da giustire quindi questo è trattasi soltanto di materiale in più che potete utilizzare per le vostre ricerche e per approfondire degli argomenti che dovete affrontare a scuola o all'università o in altri ambiti di musica oggi parliamo di un argomento che non è di cui non se ne parla molto o meglio di autori di cui se ne parla poco perché comunque sono degli autori diciamo non europei ma sono degli autori della Russia che in realtà sono molto più famosi di quello che pensiamo adesso ne parleremo brevemente intanto se volete sapere quando ci sono questi questi live che io faccio tutti i giorni dalle 2 e poi ne faccio un live diciamo di solito intorno alle 7 un live musicale potete iscrivervi al canale per sapere sempre quando partono i live o comunque quando carico dei nuovi video per per farlo basta cliccare su iscriviti e mettere la campanellina così venite notificati esattamente quando ci sono i nuovi video se ci sono degli argomenti di cui volete parlare in particolare di musica potete chiedere fare delle domande e io cercherò di rispondere a tutte le domande possibili per chi non mi conoscesse io sono sono Paolo Motta sono un insegnante musicista un produttore produco brani insomma in uno studio di registrazione insegno musica e sono appunto ho fatto questi studi nella mia vita quindi sono un musicista a tutti gli effetti e appunto utilizzo questo canale per approfondire argomenti di appunto di musica che possono essere storie della musica possono essere strumento io come strumenti sono un chitarrista poi sono anche altri strumenti basso batteria pianoforte canto insomma quindi qualsiasi cosa volete sapere riguardo a questi argomenti fate tranquillamente domande per quanto riguarda gli argomenti che trattiamo qua sono argomenti inerenti alle attività didattiche che solitamente capitano appunto nell'ambito della della formazione quindi scuola università medie liceo quello che sia ovviamente poi a seconda dell'utilizzo che ne fate si può approfondire un argomento oppure no e quindi questo è un po' il come dire il concetto di queste lezioni bene allora iniziamo parlando di questo gruppo il gruppo dei cinque il gruppo dei cinque come dicevo prima è un un insieme di musicisti un collettivo di musicisti del 1900 diciamo fine metà 1800 inizio 1900 che si sono russi che si uniscono periodicamente per incontrarsi e per confrontarsi tra loro di composizioni da loro scritte sono degli artisti che non hanno delle vere e proprie diciamo formazioni professionali conservatoriali o così possiamo chiamarle ma sono comunque degli ottimi talenti e la maggior parte del loro lavoro si basa sulle tradizioni folcloristiche del mondo russo quindi della loro patria fondamentalmente perché il gruppo dei cinque il gruppo dei cinque perché appunto era un gruppo costituito da cinque compositori per l'esattezza stiamo parlando di Mussorsky Borodin Korsakov e questo non mi ricordo mai Balakirev e Kui questi sono questi sono alcuni dei questi sono i cinque autori che appunto fanno parte di questo gruppo dei cinque oggi ci soffermiamo brevemente su alcune delle loro opere più importanti io partirei con con Borodin che vi leggo brevissimamente una sua sorta di biografia Borodin era figlio del principe georgiano Luca Stefanovic Gedianov e nasce a San Pietroburgo il 12 novembre del 1833 fin da bambino dimostra una particolare inclinazione per la musica e per la chimica impara a suonare flauto e pianoforte da autodidatta si laurea in medicina nel 1856 prende servizio come medico assistente presso l'ospedale militare di fanteria e nonostante sia autore di diverse pubblicazioni medico-scientifiche Borodin a livello mondiale diventa famoso come musicista considerato il più originale dei compositori russi passa la storia per la sua capacità di esprimere sentimenti ed emozioni in una sola frase musicale Borodin muore a San Pietroburgo il 27 febbraio del 1887 che brani ricordiamo di Borodin fondamentalmente parliamo un attimo di un brano che scrisse per l'inconorazione del secondo zar dello zar Alessandro II dedicandolo al suo ammiratore Franz Liszt per chi non conoscesse Franz Liszt è un pianista molto importante per la storia della musica molto molto bravo a livello tecnico sicuramente uno dei pianisti più tecnici della storia che portò un sacco di evoluzioni al mondo della musica nel brano sono presenti tre temi in questo questo brano nelle steppe dell'Asia centrale che è questo brano scritto da Borodin in occasione dell'incolonazione dello zar evocano fondamentalmente sono tre temi il tema russo il tema del viaggio e il tema orientale e questi evocano l'atmosfera desertica descrivendo i movimenti delle carovane mentre attraversano quello spazio immenso quindi queste sonorità danno proprio la sensazione di queste steppe desolate deserte aride tipiche appunto delle zone dell'Asia centrale se volete ascoltarlo vi consiglio di andare a scrivere di mettere su youtube il video nelle steppe dell'Asia centrale così che potete sentirlo nella steppe dell'Asia centrale eccolo qua tutto dall'inizio ah no non lo posso mettere perché poi mi bloccano il video allora questo è il link che potete andare a vedere le steppe dell'Asia centrale nelle steppe quindi questo è il link che potete utilizzare per potete utilizzare per appunto ascoltare questa questa ecco qua quindi secondo soltanto ecco qua quindi nelle steppe dell'Asia centrale è un brano molto particolare che appunto rievoca un po' quello che sono le sonorità tipiche appunto che danno una sensazione di aridità e questo viene fatto anche dall'uso parsimonioso delle note quindi poche note molto lunghe molto tenute che danno proprio l'idea di questo di questo deserto di questa aridità ok adesso se volete ascoltarla insieme a me potete farlo sicuramente quello che colpisce subito a livello sonoro sono questi violini che vengono tenuti staticamente con questa nota fissa sotto mentre intanto abbiamo il il clarinetto e poi i corni entrare con le loro melodie e piano piano inizia ad arrivare piano piano arriva la camminata il tema del viaggio appunto che questo tema con questo ritmico mentre invece il clarinetto interpreta la canzone russa diciamo infatti la melodia ha una sonorità molto tipica e successivamente a questo tema abbiamo il tema che verrà che è il tema orientale che è fatto dal corno inglese grazie grazie quindi una composizione molto bella, molto interessante da approfondire, da ascoltare con calma ovviamente ricordo sempre che è importante contestualizzare tutto questo che sentiamo nel senso che chiaramente possiamo dargli un'immaginazione figurativa quindi creare un'immagine che rappresenti a livello visivo queste sonorità ma poi la realtà è che a parte la visualizzazione pratica dei suoni è importante anche capire che il contesto era appunto un'occasione importante quindi per quello che c'era bisogno di una musica esattamente come per noi quando c'è bisogno di musica in momenti importanti così era in questo periodo però è un esempio musicale molto particolare e molto importante a livello storico perché ci riporta a quelle sonorità che ormai sono andate diciamo in qualche modo un po' perdute vista anche la globalizzazione musicale parliamo invece di un altro autore che sicuramente è un po' più conosciuto rispetto a tanti autori, a questi altri autori del gruppo dei cinque che è Mussorgsky Mussorgsky è appunto forse uno dei più conosciuti a livello popolare non tanto per una questione di bravura quanto più che altro per un discorso di rivocazione dei suoi brani infatti non troppo tempo fa un gruppo ma tanti altri diciamo musicisti hanno riportato in vita alcune delle sue opere tra cui gli Emerson, Lake & Palmer con il fantastico disco Pictures at an Exhibition Pictures at an Exhibition è quadri ad un'esposizione che è appunto questa composizione di Mussorgsky che fece in onore di un suo caro amico artista Victor Hartman quindi questa diciamo questa mostra Victor Hartman fece questa mostra di quadri a cui Mussorgsky si ispirò molto e decise di creare delle piccole composizioni che diciamo creavano l'illusione di questi dipinti che aveva fatto questo suo amico il tutto legato da una tematica principale che è quella del promenade ovvero della passeggiata in cui Mussorgsky cerca di dimostrare a livello sonoro una persona che passeggia all'interno della galleria d'arte quindi vi consiglio di ascoltare il promenade sia la versione di Mussorgsky ovviamente che la versione la versione di gli Emerson, Lake & Palmer allora promenade se voi cercate ecco qua ve lo linko così e questo è Mussorgsky promenade quindi l'idea di questo di queste sonorità che vengono fuori da questa promenade da questo brano che fa da collante poi per tutti i piccoli quadri che vengono esposti dall'artista a livello musicale fa proprio da come dire da rappresentazione visiva di quello che è appunto di quello che è fondamentalmente l'idea di una persona che passeggia all'interno di una galleria d'arte e di questo di questo Pictures at an Exhibition ovvero quadri di un'esposizione di Mussorgsky possiamo ci sono alcuni alcuni brani molto interessanti come L'ognomo e il balletto dei pulcini nei loro gusci poi abbiamo anche la grande porta di Kiev oppure Baba Yaga ci sono tantissimi piccoli estratti di questo di questo quadri ad un'esposizione molto interessanti ed è interessante altrettanto vedere l'immagine dei quadri da cui Mussorgsky è stato ispirato vi faccio un esempio faccio un esempio del balletto dei pulcini dei loro gusci questo è il titolo del quadro quindi il titolo delle come si chiama del appunto del brano è esattamente pari pari il titolo del brano del quadro e adesso volevo farvi vedere l'esempio d'immagine vediamo se riesco a trovarla per voi comunque se cercate su google balletto dei pulcini nei loro gusci lo scrivo qua balletto dei pulcini nei loro gusci troverete l'immagine di questo sorta di pulcino che sta dentro un uovo con le braccia aperte tipo aeroplano e sembra appunto una sorta di danza in qualche modo cioè questo in realtà il pulcino è un essere umano un bambino che sta dentro uno pseudocuscio e poi a fianco c'è di profilo un appunto un un pulcino uno pseudopulcino insomma un bambino pulcino non so come possiamo definirlo ciao francesco quindi questo è il balletto dei pulcini nei loro gusci per balletto dei pulcini nei loro gusci faccio sentire questa versione qua anzi mettiamo questa che ha anche perfetto questa ha anche l'immagine così potete vedere anche l'immagine questo vi aiuterà anche a ricreare la suggestione visiva e collegarla con il suono adesso lo linko questo è il balletto dei pulcini dei loro gusci eccolo qua un brano molto allegro ovviamente ovviamente ha questo queste sonorità molto ritmate molto molto leggere appunto proprio per dare l'idea di un di un balletto per l'appunto ma ce ne sono tanti altri interessanti come per esempio lo gnomo anche che è un altro brano di quadri ad un'esposizione di Mussorski faccio vedere per esempio lo gnomo questo è questo è questo è il brano vediamo se questa versione ok questo è il link poi è molto interessante perché ci sono delle sonorità appunto inizialmente molto irruente che potrebbero fare immaginare un gnomo correre di corsa con le sue gambettine di qua e di là e voglio vedere se trovavo un'immagine di questo quadro se riesco a trovarla eh questo è un po' più difficile perché appunto poi non essendo è un po' no in questo momento non è comunque insomma questo è un altro esempio di picturesque quadri ad un'esposizione e a questo punto direi possiamo un attimo accennare appunto il collegamento che facevo prima con la storia del rock che sono gli Emerson Lake and Palmer Pictures at an Exhibition e o anche il per esempio per esempio questo è il promenade più la parte dell'ognomo appunto degli Emerson Lake and Palmer che potete sentire qua adesso vi giro il link eccolo qua quindi questo è gli Emerson Lake and Palmer Pictures at an Exhibition ed è interessante questa rappresentazione di questo di questo appunto di questa parte diciamo questa musica di Mussorgsky rivista in modalità progressive rock tipico degli anni 70 quindi insomma questo è un po' il concetto di questi autori di questo periodo ovvero quello di cercare di di cercare di enfatizzare le sonorità popolari del loro periodo e in qualche modo portarle alla luce a livello orchestrale e appunto sono dei dei brani che sicuramente può darsi avrete sentito soprattutto appunto il Promenade di Mussorgsky lo Steppe nell'Asia Centrale è un brano molto famoso sono dei brani che vengono utilizzati di meno per quanto riguarda sincronizzazioni nel mondo del cinema nel mondo della televisione ma comunque hanno una valenza storica molto 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 presente e ci sono tante altre cose che potremmo dire di questi di questi autori io non vorrei mettere troppa carne al fuoco soprattutto perché appunto Mussorgsky stiamo parlando di un brano di una composizione molto complessa con tanti piccoli brani vi invito più che altro a soffermarvi su questa su quest'opera perché sicuramente è un'opera molto un'opera grande che ha molte sfaccettature ed è interessante vedere come Mussorgsky che abbia dipinto a livello sonoro tutti questi quadri che potete reperire in qualche modo su internet se ricercate come appunto quello del balletto dei pulcini nel loro guscio io mi fermerai qui oggi se poi avete delle domande su questi due autori del gruppo dei 5 di cui abbiamo parlato fate le vostre domande riprenderemo l'argomento in un'altra lezione così insomma cerchiamo di suddividere un po' gli autori perché sennò troppi autori poi uno va in confusione ascoltatevi i brani che vi ho linkato così potete appunto comprendere un po' meglio quello di cui abbiamo parlato oggi e se volete sapere quando faccio questi video iscrivetevi al canale così possiamo potete essere informati di quando ci sono questi video se ci sono degli argomenti o degli autori in particolare di cui volete parlare scrivetemelo e vedremo di insomma organizzare magari un piccolo una piccola lezione anche su questi argomenti magari sono gli stessi argomenti che vorrò trattare io quindi assolutamente siete benvenuti io vi saluto ci vediamo domani alle 2 per un'altra lezione sempre qui su il canale PM Productions altrimenti ci rivedremo stasera verso le 19 per un mini concertino casalingo insieme tanto per passare un po' il tempo quindi vi saluto ci vediamo stasera se no domani un saluto a tutti ciao